Ciao, benvenuti su MyFootballGersey. Oggi vedremo insieme una maglia di una squadra italiana dell'Inter-Milano per la stagione 22-23, la maglia di casa nella versione FAN. Finalmente la maglia dell'Inter. E' questo il commento piggettonato sul web dopo la presentazione della nuova maglia dell'Inter 2022-23, in quella che sarà la stagione numero 25 firmata Nike. Dopo un biennio di sperimentazioni con la maglia zig zag e la divisa con la pelle del serpente, finalmente tornano le classiche strisce nero azzurre per la gioia di tanti tifosi. Le righe nero azzurre sono più larghe, come negli anni 60. Sopra di esse scorre un pannello con le strisce in orizzontale. Il collo più alto invece ricorda la divisa Nike del 2000-2001. Debutta finalmente anche lo stemma I.I.M. con le tinte nero azzurre, sormontato dalla stella dei 19 scudetti colorata di bianco. Novità? Anche il main sponsor Digital Beats, che si unisce a Lenovo, quest'ultimo stampato sul retro. Cosa ne pensate? Non è la squadra del mio cuore, però devo dire che mi piace, mi piace molto questa tonalità di blu di questa maglia. E nella mia classifica questa prende 4 stelle, fatta veramente molto bene con tutti i particolari al posto giusto. Qui in alto vedete il prezzo, veramente incredibile, molto conveniente che mi invita a trovare il sito. In descrizione, qua in basso, trovate tutti i riferimenti per ordinare la maglia e un link per ottenere un coupon da 5 dollari che potete utilizzare sul sito per comprare quello che volete. Peraltro vi ricordo che su questo sito, su Main Jersey, la spedizione è inclusa, quindi veramente molto vantaggiosa. Ora vi lascio la parte in cui vedrete la vestibilità, spero che il video vi sia piaciuto e spero che possiate regalarci un like e iscrivervi al canale. Per oggi è tutto, ci vediamo alla prossima! Io sono alto 1,75 m e peso 70 kg circa. Quella che vedete è una taglia media, della versione FAN.